Genus 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 o sanscrito Jati Nascita ma nascita sempre sociale nascita entro un gruppo sociale Domus in greco e latino Domus si e casa in greco casa costruzione famiglia e in latino Domus è proprio famiglia e poi casa in greco casa si dice in un altro modo no oikos quindi Dominus quindi il signore della famiglia Dominus non è poi la casa economia economia è appunto il nomos della casa della casa e qui ancora casa qui in questo caso casa famiglia anzichè la famiglia quindi la casa Gen quindi gen è nascere gen 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 noi diciamo gen pronunciando male in latino gen gen perché non è genus ma genus 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 in tedesco König quindi König e king in inglese perché è chiaro che se la nascita è nel gruppo la nascita sociale allora è chiaro che c'è chi nasce bene e chi nasce male e chi nasce rotondo non può morire il quadrato e loro la quadratura la quadratura è impossibile pertanto l'infinito e le verità del tempo e le verità del tempo abilitate già quindi è la nascita la buona nascita la nobiltà questo non è una costellazione è significante perché la questione qui genus 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 oh quella del segno e della sua tripartizione è quella è quella della diade della triade della struttura della scrittura del viaggio una costellazione una costellazione significante quindi gameo quindi abbiamo genere no genere generis oppure genero genero gener gener quindi non è poi dice il genero ma è lo genre parente parens 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 gameo 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 quindi genero gameros e ancora geno gigni genitum gignere oppure geno gigni genitum gignere e quindi generale leggendico per volare generale in senso fisico e volare generale in senso fisico e morale generale ma è in senso fisico e morale e quindi ancora gigno gigno non soltanto geno ma igeno o gigno e quindi pro gigno pro genitum pro genitor ma voi notate che qui gigno quindi noi abbiamo anche gnasco gnasco sempre gen gnasco gnatus 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 roma distingue tra pater e genitum genitum e roma la patria potestas prescinte della e può essere senza genito senza che sia genito senza essere genito non è genito ma è pater questo questo è diritto romano ammesso padre familias non è non è il genitore dell'intera famiglia è pater e pater genitura genitura o genitura genema genitalis e gonimos genus quindi genos in greco genus generosus o generosus ma poi genus indica poi il gruppo ma il gruppo non soltanto genus umanum ma anche genus piscium o piscium si legge in un altro modo genzi 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 è soltanto degli uomini la genzi genus la genza la stilte ma anche sempre nascita quindi ancora genus genus che e poi edos invece parse specie quindi del genere e specie edos genicosto generalis edicosto specialis o specialis o specialis genero in genero generatio o generatio quindi e qui poi seguito con l'impero generator generatio 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 generos quindi è di nobile genero nobilis aptico e generosus e un Endiale nato benissimo E tutto ciò che non è andato bene è degenero, 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 de, la degenerazione, la degenerazione umana, e quindi la rigenerazione. La questione ripeto è quella della tripartizione, genios era una divinità, genios, quindi non genus, neutro, genus, genos, genios, genios. Divinità che presiede alla nascita. Poi, dopo, divinità, ancora tante, e quindi una divinità per ogni umano, per ogni umano, la sua divinità. E quindi la divinità che tutela, genios, che tutela ogni umano. Quindi ogni umano ha il proprio genio, tutelare, il proprio genio tutelare. Un uomo di genio, una donna di genio, tutelato da una divinità. Genio, genio, poi, poi altro, soltanto questa accezione divina, allora ancora, dunque, pertanto però la stessa genialis viene da questa accezione. Genialis, divino. Genialis e dies, genialis e dies, o genialis e dies, soli e giorni e gioiosi. Genzi dunque ancora gentis, genzi, gentis, gentis e gentiles. Questa distinzione a Roma poi viene mantenuta dalla Chiesa, i gentili sono i pagani. Ta essi ne, ta essi ne, ta essi ne, ta essi ne, essi ne, soli i pagani. Allora, gens, genus, natio, sempre come gigio, gnatio. E ancora ingenium, 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 indoles, ingenumus, ingenumus, ingenua indoles, ingenitas. Questi sono significanti, è chiaro che la ciprematica di ciascuno di questi significanti è una lavorazione, è uno, chiamato significante tra virgolette, così anche germanus che è della stessa razza, o fratria, fratria sempre della stessa stile, della stessa nascita, germanitas. Qual è la questione per cui l'agnosi è una dottrina politica, economica e sociale? Allora, l'agnosi ebraica, l'agnosi ebraica, l'agnosi ebraica, l'agnosi ortodossa, l'agnosi cavinista, l'agnosi letterale, l'agnosi cattolica, l'agnosi cattolica, ma anche l'agnosi nestoriana, nestorio, nestorio, è al patriarca di Costantinopoli. e va stenta a medire che, che varia è, che ottocos, THEOTOKOS, 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 THEOTOKOS. E' E' madre di Dio, è disposto a dire che E' THEOTOKOS che riceve Dio, Oppure dire che è Christopos, madre di Cristo, perché allora invece lui è, si chiama appunto Nestorio, ma Cirillo, Cirillo è il patriarca di Alessandro, di Egitto e quindi gli attribuisce Nestorio a una teoria un po' molto sfumata, si potrebbe leggere, discutere ancora, bisognerebbe leggere davvero, capire il libro di Eracrete, ritrovato nel XX secolo, il libro di Eracrete, questo, leggere una storia è essenziale per capire la prima base dell'isola, allora sono assillati, cioè il concilio, il concilio di Efeso, il concilio di Efeso, viene fatto apposta, il concilio di Efeso 431, Nestorio muore nel 454, quindi Cirillo, cioè Cirillo di Alessandro, Alessandria, patriarca, e Cirillo, quindi, quindi, l'estore rinuncia all'unione ipostatica, sostanziale, perché quello che si sono questi patriarchi, patriarca di Alessandria, quindi dei poteri, fine politiche, è qualcosa che si chiama ontologia. Come conciliare l'atto di Cristo con ontologia, allora basta trasformarlo il discorso, tramutarlo il discorso, il discorso cristiano. Quindi lui rinuncia all'unione ipostatica, insomma, alla consustanziazione, due nature, due sostanze, due sostanze, quindi, perché se una sola umità sostanziale, di due sostanze, di due nature, allora, che succede? Che Dio soffre e che Dio vuole. Questo è che lui, è un po' preoccupato, è storico, però la questione è la sostanza, è che come salvare il sistema, quello che Aristotele chiama sistema, che è la questione chiusa, che è l'abolizione del due, come salvare questo? Con la sostanza, una, due, con sostanzialità o distinzione, lui previsce la distinzione di natura e di sostanze, ma sono sempre sostanze. E' l'agnosi quella di Nestorio e l'agnosi quella di Cirillo, Cirillo di Alessandria, non Cirillo metodico. Si trova in queste cose, in queste questioni, si trova in queste cose, in queste domande. E' lo stesso Sant'Agostino, discutere, distinguere, formulare un'ipotesi, indicare l'impensabile. l'impensabile. L'agnosi è intollerante rispetto alla parola, invita il segno e la superficie. L'impensabile è intollerante rispetto alla parola, invita il segno e la superficie. L'impensabile è dell'apertura intellettuale. E quindi, nella dottrina della caduta, del precipizio, della corruzione, del male, del negativo, deve provare a cercare la scintilla, sempre la scintilla, dell'origine. Cioè, non il granello dell'ambiente che è il granello dell'infinito, ma la scintilla dell'origine. E' ciò che, con il fantasio di paternalanza, ciò che, con il fantasio di paternalanza, psicologico, lo troviamo tra le donne della Bibbia. Abbiamo fatto, per un anno intero, conferenze, no? Le donne della Bibbia. Inedito, non inedito. E lo troviamo poi nelle dottrine. di paternalanza. Questo concetto di codice genetico è un concetto che è arcaico. In meno che possiamo dire. E' arcaico. E' principio ontologico. E' il codice ontologico. Questo codice è il sistema. Qual'è il codice? Qual'è il sistema? E' il sistema. E' quindi è la falloforia genetica. Il principio dell'ordinalità. E' la falloforia genetica. il principio della sostenibilità. Non tollerano la generazione. Perciò tollerano la procreazione. e tollerano la clonazione. e lo troviamo. E' la varoforia genetica. La colorazione. Quindi gli umani programmati, non soltanto destinati, programmati, tutto ciò che è Dicono, fanno, pensano, sperano e tutto risponde alla clorazione, quindi alla robotizzazione. La clorazione è algebrica, spetta al discorso costituzionale, quindi proprio dell'impero, dell'imperium, e la clorazione è algebrica, spetta al discorso istituzionale e quindi tocca il popolo istituzionale. La clorazione è algebrica? Sì, 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 ma la clorazione perché? Perché niente astrazione, niente astrazione, niente generazione. Il manicaismo, l'arianesimo, il nestorianesimo, l'islamismo, il protestantesimo, la regione Ottodossa, vero Mazzolè? Non la fanno dormire? Con la cameriera, con la cameriera lei non dorme. Allora, adesso va a stare, ecco, meglio. Allora, queste dottrine, sono cosiddette eresie, sono scelte, scelte, cioè il principio della scelta, della selezione, e il principio della scelta, e il principio della selezione. Queste eresie e eresie, diciamo, cosa hanno, cosa hanno, un minimo comune, qual è il loro minimo comune? Il minimo comune è niente di partizione, ma l'uno padrone, l'uno padrone, l'uno padrone, è chiaro che si moltiplica, si duplica, si divide in due, circola, l'uropolo, l'uropolo, la circolarità, il ritorno, pertanto la scintiva origine, quindi il tempo, il tempo è soltanto il segno della mortalità, il discorso generologico è il discorso della morte, le donne non ne fanno parte, ma possono fortemente contribuire come nella sacra Bibbia. in che modo? Il fantasma di Sara, il fantasma di Agar, e poi c'è Dio che è sempre complice, hanno un fantasma e viene aiutato nella vendetta, Agar viene aiutato nella vendetta, tu avrai un territorio vastissimo, Ismaele va a regnare tanti principi che saranno sotto di lui, e tanti schiavi, eh che bello, tanti schiavi, Adramo, non ti preoccupare, tu Sara, eh, Sara, tu hai questo, devi vendicarti adesso di Agar che ti ha trattato male, quando eri incinta, ma nessun problema, Sara, avrai Ismaele, Isacco, scusate, avrai Ismaele per Agar, avrai Isacco, Isacco, ma come, io ho 199 anni, 100 anni, Sara, lui dice, Abram, non Abram, Abram, Sara, Sara, Sarai, Sarai, ne ha 99, mi preoccupare, ma io sono tutta asciutta, dice, Sarai all'angelo, sono tutta asciutta, è inclinzita, ormai, no, no, tu pensi che il signore non possa fare come nome, tu, quella, 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 la ragazzina, la Agar, e tu, no, no, ci penso io, avrai Isacco, ve lo dice anche a, poi parla ad Abram, tu, lui dice, Sara, tu ti chiamerai, Sara, no, non Sarai, Abram, tu ti chiamerai, Abram, non solo Abram, ecco, però avrai una discendenza, subito comincia tutti i figli che tu hai comprato, questi due figli che tu hai comprato, e il ragazzo di 13 anni che è nato da Sara, da Ismaele, da Ismaele, che è nato da Agar, e tutti, circoncessione, perché questo è il segno dell'alleanza tra Dio e il tuo popolo, io il tuo popolo, io sono il Dio del tuo popolo, quella è una vastissima discendenza, tutto questo è molto vasto, lo vedi quanto è grande, tu neanche riesci a, ecco, tutto tuo, tutti i tuoi discendenti, è il fantasma di Sara, no, il fantasma di Sara, il fantasma eterno, Dio collabora, è complice, e aiuta nella vendetta, però poi aggiusta le cose, Dio, tu avrai questo, però tu combatterai questi, tu li combatterai, cioè vendetti in cruzati, ma sempre Dio aiuta, no? E il Dio della vendetta, eh? Ok, abbiamo fatto le donne della Bibbia adesso, allora, perché nella dottrina, no? Dottrina algebrica, tra l'altro, tutto è regenerato, ma tutto è regenerato, l'ambiente, la natura, le piante, i cibi, tutto è regenerato, cioè i vestiti, l'aria, tutto è degenerato, mi trovo sulla montagna, qui è degenerato, al mare tutto è degenerato, sulla collina tutto è degenerato, quindi tutto è da rigenerare, ecco, quindi niente generazione, perciò causa sui, partenogenesi, rigenerazione, rinnovazione, così, così, cioè tutto è mortale, mortifero, eh? nascere, 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 sì, questa accezione, fortemente gnostica, no? In questo caso luterano, è molto bene espressa dallo psicoporpo Jung. Nell'ora segreta del mezzogiorno, il segreto, il segreto di morte, il segreto di mamma, nell'ora segreta del mezzogiorno della vita, il mezzogiorno della vita, si inizia la nascita della morte. ma no, no, è una poesia, sembra, macabra, taratologica, non è ingegneria, senza ingenium. ed è questo il discorso che puoi servire, magnosico. sempre lo stesso Jung, in un libro che si chiama Libro Rosso, Liber Novos, 1921, e vivere se stessi significa essere un compito per se stessi, vivere se stessi, il rapporto di sé a sé, il ritorno da sé a sé, che non è un fantasma delno, il fantasma della simmetria ideale, della proporzione ideale, della parità ideale, parità sociale ideale, e quindi dell'uguaglianza ideale. vivere se stessi significa essere un compito per se stessi, non puoi mai dire che vivere per se stessi sia un piacere. il rapporto di sé a sé è un piacere, non puoi dire, non puoi dire, non puoi dire, dice Jung a Carletto Jung. non puoi dire, non puoi dire, che vivere per se stessi sia un piacere, intanto dice che è un compito, quindi un compito ontologico, immemorale, legale, non sarà una gioia. non basta con le più, non sarà una gioia, ma una lunga sofferenza, che compita il rapporto di sé a sé. sii te stesso, eh, i progetti del lui comune, la televisione, il progetto del lui, ripeti, il lui comune. non sarà una gioia, ma una lunga sofferenza, perché devi farti rigenerare, rigenerare, sei di genere, devi rigenerarti, devi, non sarà una gioia, ma una lunga sofferenza, perché devi farti creatore di te stesso. a causa sui. E questo, idiota, con la sua dottrina, ha invaso. in Italia, con l'università, giornali, in casa del vice, chiese, cattolico, l'agnosi, tollerato, quasi sposato, quasi benedetto dall'agnosi cattolica. l'agnosi cattolica, il catto comunismo, dicevamo, il jungomarxismo, dicevamo negli anni cattolica. la questione è questa, che non c'è generazione, che non c'è filiazione generogica. non c'è filiazione generogica. non c'è principio generogico. il figlio, la questione è questa, il figlio procede dal padre. la funzione di uno procede dalla funzione di zero. la 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 funzione di zero. due, non è il figlio che è senza principio di identità, il figlio quindi l'uno diviso dall'uno e non diviso in due. La generazione è senza genealogia e dimora sul terreno dell'altro, nella humanitas, la generosità, l'indulgenza, l'unità, le virtù dell'altro, niente generazione senza l'altro, quindi il principio del terzo escluso, se l'altro togliendo l'altro non è nessuna generazione, procreazione, colorazione, riproduzione, moltiplicazione, moltiplicazione, circolazione, ma non generazione, non il fare, non la struttura dell'altro, non la poesia, non l'intervallo, perché è nell'intervallo e per catacresi la generazione e per abuso la generazione. e per abuso che non la mette in consumo è mediazione. e qui appunto il pubblico, qui l'indice, la parte, l'indice dell'infinito, dell'italità del terreno, qui l'ingegneria, nessuna copia, nessuna copia identica, nessun principio di identità, che è la duplicazione, è la piega attribuita all'uno, come si divide in due, quindi si piega, la piega attribuita all'uno, il tempo come divisione, come taglio e invece esige la piega, quindi la piega che viene dal tempo, non è la piega dell'uno. dottrine quindi che appoggiano sul principio ontologico, nel principio di morte, dove regna l'amore, l'amore senza l'odio, è rigenerante, che è l'amore senza il tempo. l'uloporos, la circolarità, genere e rigenerazione, principio di morte, ed è la rigenerazione. generazione delle idee, generazione dei computer, quindi una classe, ma anche la nascita, quindi come gruppo, tu quanti anni hai? Io sono della classe, della classe del 90, classe 90, già la nascita nella classe, quindi addirittura la classe, senza la nascita, io sono della classe, io sono classe 90, classe 80, classe 85, oppure qualche altra classe, senza l'altro comunque nessuna generazione. nessun principio di ordinarità, quindi il principio di ordinarità, di sostenibilità è il principio di procreatività, il principio di colorazione, il principio del finalismo, il principio che è della causa finale, richiede la causa finale, quindi la quantità è paradigmatico, perciò cardinale, la quantità è nella struttura dell'altro, nella struttura dell'altro. E la questione che lei si discute, proposta è la questione dell'ospitalità. L'ospitalità, l'ospitalità. L'ospitalità. L'ospitalità, l'altro. la generazione per assalto, per per apresi, per abuso, per compiere, per sostenibilità. Perciò l'immunità, l'immunità immacolata è la generazione, non la concezione. E ci sono vari brani che dovremmo discutere, di Freud, Marx, Schopenhauer, abbiamo notato il governo, Joyce, Krofsky, Trovo, e anche un brano di mottile interesse di Gian Giuseppe TV, dove la concezione assume la generazione, per cui si tramuta in omogenerazione. Un omogenerazione, un brano. E' vero, Lazzonello? Lo mio. Ma per tante altre cose com'è, ma adesso questa cosa qui della generazione, della ripartizione, com'è che l'epoca, no? L'epoca ha una sua spiritualità, una sua visione, la visionaria dell'epoca, no? E quindi la trasmigrazione, quindi questa dottrina che viene, secondo la gnosi, applicata in modo distinto. E quindi conflitti, no? Conflitti gnostici. Ma è il principio della sostenibilità con delle varianti, a seconda della gnosi. la gnosi islamiche, la gnosi nestoriale, la gnosi ortodossa, la gnosi, quella di oggi la gnosi pute neopone, no? La gnosi ortodossa, e la gnosi protestante. Quindi, che stavo leggendo? Sì, appunto, e non importa, sono sempre attorno all'apoptosi. la gnosi ortodossa. La Germania mantiene i suoi cento milioni, non in virtù delle nascite da parte dei tedeschi, in virtù della trasmigrazione islamica. L'Italia ha due caratteristiche, due caratteristiche esagerate, due aspetti. perché, per un verso, le nascite limitatissime, no? Per ogni coppia in Germania nasce mezzo tedesco. In Italia non so se è uno o qualcosa del genere. Uno virgola. Sì, uno virgola, c'è anche la virgola. Però c'è uno virgola, ma c'è qualche altra cosa in Italia, che c'è la trasmigrazione degli italiani, che era più vasta negli ultimi vent'anni, rispetto a quella che ha avuto in precedenza. Anche la grande trasmigrazione dopo un'unità d'Italia. Da un'unità d'Italia, nel sud dell'Italia, doveva trasmigrare. E andava in Argentina, in America, in Canada, negli Stati Uniti, negli Stati Uniti. Specialmente gli Stati Uniti, perché questi altri paesi successivamente, dopo la seconda guerra mondiale. Ma prima della prima guerra mondiale, tra l'unità d'Italia e la prima guerra mondiale, una trasmigrazione enorme. Adesso è diventata una trasmigrazione verso altri paesi, verso Londra, verso Germania, verso gli Stati Uniti. e ora, non soltanto da parte dell'Italia, ma da parte dei paesi europei, verso il Pacifico. Il Pacifico. Oggi, Londra contiene una città italiana di 450 mila abitanti. 450 mila abitanti. 450 mila italiani. Non di vecchie, recente. Ma noi accenderevamo il congresso di Tokyo. tra il congresso di New York, fine aprile, prima di maggio del 81, e il congresso di Tokyo, che eravamo a fine marzo, inizio aprile del 84, a qualcosa che andava agli oceni. e cioè, non soltanto dicevamo New York, Roma, Tokyo, ma, quindi come Corinto, Tebbe e Colono, ma, dicevamo anche il Mediterraneo, l'Atlantico, il Pacifico. Dicevamo una cosa intorno al Pacifico. Allora erano 3 miliardi. Oggi è di più. Ma non è soltanto di più. L'economia è, tra virgolette, enorme, e la gestione degli scambi, delle trasmigrazioni. ci sono europei che vanno, cioè giovani, che vanno in Cina per studiare, e per lavorare lì. Oh, ma non è soltanto la Cina. La Nuova Zelanda, l'Australia, la Corea, i Vietnam, tra poco l'India, e altri paesi. e anche, oppure che vanno, a Los Angeles, a San Francisco, nella California. Cioè è il Pacifico. Il Pacifico. Dicevamo Tokyo, allora. Ma durante questo Tokyo era l'immagine del Giappone del terzo millennio, no? E poi era da dove viene l'Oriente, dove aveva l'Occidente. la sessualità dove viene l'Oriente, dove aveva l'Occidente. Una questione, ancora, della generazione. Questa, della generazione. Che era una questione politica, il meno che possiamo dire. È una questione politica. è una questione politica. Allora, questo è ancora. Analizzare l'evento che non esiste, è però costituito da quelli dell'Agnosi, da queste patrie, e dai fortissimi interessi, che, quindi, nei gruppi, nelle classi, nelle bande si stabiliscono e che sanciscono qualcosa che si chiama epoca. per cui adesso molti parlottano. L'epocale. L'epocale. L'epocale è un'altra questione. Epoche. Che sospendono qualcosa per... Sospendono la rigenerazione per iniziare la rigenerazione. Epoche. in questa eccezione gnostica dell'epocale. È un'eccezione gnostica. Tutto diventa epocale. Quindi tutto da rigenerare. Quindi il capitolo è questo. Che cosa avviene in Italia, cosa avviene con l'affare che ci riguarda adesso. E... Se intenderlo rispetto all'analizzarlo, intenderlo, e intenderlo soprattutto ciò che avverrà, che avverrà, qual è il progetto, qual è il programma dei prossimi anni. Questo... Perché il... Il discorso come causa lo intiene. E' un fantasma. Il fantasma è il tuo abbraccio. E... E la vita è senza questo fantasma. La questione della generazione è la questione della poesia. E' una questione... E' una questione politica. E' una questione sessuale. E... Nel peso della sessualità, non cessa quella della causa. Grazie. 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 Grazie.